Dopo domani, 20 giugno, ricorre la giornata mondiale del rifugiato, che la comunità internazionale dedica a chi è costretto a lasciare la propria terra per fuggire dai conflitti e dalle persecuzioni. Il numero di questi fratelli rifugiati sta crescendo e in questi ultimi giorni altre migliaia di persone sono state indotte a lasciare le loro casse per salvarsi. Milioni di famiglie, milioni, rifugiati in tanti paesi e di ogni fede religiosa, vivono nelle loro storie di dammi e ferite che difficilmente potranno essere sanate. Facciamoci i loro vicini, condividendo le loro paure e le loro incertezze per il futuro e alleviando concretamente le loro sofferenze. Il Signore sostenga le persone e le istituzioni che lavorano con generosità per assicurare ai rifugiati accoglienza e dignità e dare loro motivi di speranza. Pensiamo che Gesù è stato un rifugiato, è dovuto fuggire per salvare la vita con San Giuseppe e la Madonna, è dovuto andarsene in Egitto, lui è stato un rifugiato. Preghiamo la Madonna che conosce i dolori dei rifugiati, che si avvicini a questi fratelli e sorelle nostri. Preghiamo insieme la Madonna per i fratelli e sorelle rifugiati.